Passiamo al derby d'Italia, questo Juve-Inter che è comunque due squadre che stanno prendendo un pochino spazio rispetto alle concorrenti dietro di sé. Fra due settimane dopo la sosta delle nazionali ci sarà questo scontro diretto con un Inter che sembra avere pochi rivali. Che percentuali dai alla Juve? Anzi ti faccio subito una domanda su Allegri, dato che comunque tu hai lavorato alla Juve nel periodo di Allegri. Quindi secondo te giocherà per pareggiare, per cercare di mantenere il margine, un po' come ha fatto magari a Bergamo. Cioè giocherà un po' senza prendersi rischi come dici anche tu. Sì, un grande classico di Allegri è la partita di andata e eliminazione diretta al Champions. L'andata lui è sempre conservativo, tende a giocare un calcio difensivo in cui non prende gol, si gioca in casa l'1-0 è un sogno, va benissimo. 0-0 non fa poi così male che poi può andare là a fare due risultati su tre. E' il suo approccio che ha estremizzato negli ultimi anni. Se mi chiedi chi ha più possibilità di vincere lo Scudetto, a me sembra che l'Inter sia superiore, lo dico dall'estate, quando in realtà dava qualche chance anche al Napoli, poi clamorosamente smentito. La Juventus secondo me ha meno qualità. Se tu pensi, se facciamo il classico gioco banale, quanti giocatori della Juventus sarebbero titolari nell'Inter? Czesny, ok. Bremer, possiamo discutere ma diciamo di sì. Sulle fasce onestamente direi di no. In mezzo al campo forse Rabiot, te la puoi giocare di tuo gusto con Mkhitaryan e con Barella. E poi io credo che abbiamo finito, nel senso che se hai una passione per Turam non gli preferisci Blaovic, ma lì puoi dire invece Blaovic, puoi anche discutere sul fatto che giocherebbe bene o male con Lautaro, ma lasciamo stare, non conta. Il fatto sta che non sono molti i giocatori della Juventus che sarebbero titolari nell'Inter. L'Inter mi sembra sicuramente più forte, però allegra questa grande capacità di prepararti una singola partita, di sporcare i tuoi grandi pregi, di farti giocare male. E quindi sulla partita secca può andare in tutti i modi, compresa una vittoria della Juventus che sarebbe clamorosa perché la porterebbe in testa. Io continuo a pensare che l'Inter sia favorita perché è più forte, però sui 90 minuti è veramente una moneta per anni. E bisogna capire esattamente Allegri come deciderà di impostare questa partita, quanto cercherà magari di limitare anche il modo di giocare dell'Inter, che comunque è piuttosto evidente. Quindi più campo dai all'Inter e più i nerazzurri ti fanno male. Quindi questo forse è pane per i denti di Allegri, che cercherà magari di togliere più campo possibile, poi magari lui invece andrà a giocare in ripartenza. L'anno scorso a Torino la Juve fece una grande partita secondo me contro l'Inter. Forse Allegri cercherà di replicare un po' quello spartito lì. Sì, non c'ero perché ovviamente seguendo il Milan non c'ero, però è vero anche che l'Inter sa giocare tante partite in una. Ha giocatori capaci di interpretare, di modificare, di giocare un calcio più a difesa schierata, di conservare un po' di più il possesso. Cioè all'interno di quel 3-5-2, che sappiamo essere molto statico, con i cambi al sessantesimo sempre gli stessi, un po' codificati le giocate ereditate in parte da Conte, in parte diciamo by Inzaghi, un po' codificate, un po' ripetitive, però puoi giocare tante partite in una, non serve in finale di Champions League se non sai giocare tante partite in una. una cosa. Quindi insomma non basterà mettersi dietro per battere l'Inter o per giocarsi alla pari con l'Inter, però certo è più semplice giocare una partita difensiva che giocare una partita offensiva contro l'Inter, proprio perché l'ho vista tante volte col Milan e quella partita si è ripetuta come il giorno della marmotta, è sempre la stessa con l'Inter che riparte, che usa i quinti, le mezze ali, le combinazioni con gli attaccanti, quello con l'Inter proprio non lo puoi fare. Grazie a tutti.